Tutti hanno il diritto al gioco, tutti i bambini soprattutto hanno il diritto al gioco e soprattutto, e qui parlo dalla prospettiva della mia organizzazione, dell'UNHCR, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per i Rifugiati, soprattutto i più marginalizzati, i rifugiati, gli sfollati, gli apolidi, tutti coloro che hanno perso o casa o cittadinanza. Per loro in particolare, ma per tutti, lo sport, il gioco, lo sport sono di estrema importanza perché sono naturalmente un mezzo molto efficace di essere inclusi o almeno di non essere esclusi, sono una maniera straordinaria di condividere valori importanti, sono formativi dal punto di vista personale e soprattutto lo sport, il gioco, danno speranza e questo è essenziale per persone come i rifugiati che spesso hanno perso tutto. Per questo sono molto contento e molto onorato di partecipare a questo convegno in Vaticano che si chiama Sport per tutti. Penso che sia molto importante ricordare a tutti l'importanza, la potenza direi quasi, dello sport come strumento di aggregazione, come momento di aggregazione, come modo per riunire società spesso divise e anche come importantissimo mattone nella costruzione della pace in un mondo sempre più diviso e frammentato.